Su Emmanuel Macron e la sua vittoria, lo storico Jean-Pierre Rioux, specialista di storia contemporanea francese, ai microfoni di Euronews, ha dichiarato. Emmanuel Macron ha scelto di celebrare la vittoria elettorale sulla spianata del Louvre. Perché, secondo lei? Ha usato la forza dell'immagine, sottolineando la marcia solitaria verso il compimento del suo destino. Il Louvre, la piramide, hanno rafforzato questo concetto. Ha aggiunto in fondo una dimensione simbolica che nel corso della campagna elettorale non era ancora emersa. C'è qualcosa di imperiale, Augusteo della funzione presidenziale, il presidente di tutti i francesi, colui che ha i codici nucleari. E i simboli sono estremamente importanti. La memoria torna a Mitterrand, che va verso il Pantheon, ma senza la rosa in mano. Emanuele Macron ha partecipato alle cerimonie di commemorazione dell'8 maggio. È una data importante e si è fatto invitare dal presidente François Hollande. Cambierà qualcosa per lui? Gli darà una statura presidenziale questa partecipazione? La statura gli viene dalla funzione. Sarà un presidente meno commemorativo rispetto al suo predecessore, rispetto a François Hollande, che ha commemorato tutto, che ha fatto della politica, della memoria, un qualcosa di altamente onorevole, direi. La perseveranza, che ha fatto, direi, in un'idea di una politica di memoria entrettenuta su tutti i suoi suoi, diciamo, un fondi commercio tutto affò onorato. Cosa ricorderà la storia del mandato presidenziale di Hollande? La sanzione è già nelle cose. Se il bilancio di Hollande fosse stato positivo, si sarebbe ricandidato. Non è stato il caso. Rispetto a Emmanuel Macron, possiamo dire che, visto il suo programma e vista la campagna elettorale, chi ha fatto avrà sicuramente una politica europea più attiva. E la campagna elettorale elle-même. On può comunque supposare che Emmanuel Macron aura una politica europea altrimenti più attiva e, speriamo magari, probante, che quella di François Hollande.